sono le due esatte 25 minuti siamo appena arrivati davanti al comune di pozzanovo questi sono i chilometri tangibili che abbiamo fatto 471 ok l'ultima pergamena che ha in mano vanni la mettiamo la mettiamo sul per il sindaco di pozzanovo buonanotte a tutti abbiamo fatto il nostro record non solo questo ma abbiamo fatto anche quello dei 470 chilometri mi è andata bene perché sono ancora qua che ve la racconto a una spalla che mi fa un male tremendo ma non ce ne frega sapete che facciamo andiamo a casa mia e come al bar da cencio apriamo il spumante ce lo beviamo e dopo andiamo a letto ciao ragazzi arrivederci in roma metri per la pace su due ruote on the road il 9 agosto grazie a roberto magagna e vanni del checco e con il sostegno e supporto di molena biciclette qui abbiamo qui rappresentante siamo sul ponte di barche di gorino forse uno dei passaggi più suggestivi abbiamo già a 126 chilometri siamo messi bene per l'orario che è siamo messi veramente bene però è ancora lunga ma dove c'è ottico sita negate più altri che fa queste imprese qua guardate che spettacolo alla prossima via guardate lo spettacolo di questo posto ragazzi abbiamo perso dieci minuti ma meritava la meraviglia del porto di goron la meraviglia del porto di goron eccoci qua vedete adesso brindiamo la nostra con un un vinarello un buon proseguo di quelli buoni e basta fine perché ci siamo veramente strappi buona cultura grazie buon caluto grazie evviva grazie arrivederci arrivederci